ops un pacchetto due pacchetti e poi c'è questo che pesa veramente un sacco ed è fondamentalmente se avete letto il titolo la parte fondamentale di questo unboxing ma come sempre prima sigla il pacco gigante direi di lasciarcelo per ultimo prima andiamo a vedere questo che viene da 3d jake è la prima volta che acquisto da questo sito comunque andiamo ad aprire in ballo questo questo della bontek è un dissipatore che serve per dissipare dei motori stepper ad esempio io lo voglio utilizzare per la mia prusa perché come sapete il motore dell'estrusore scalda veramente a bestia e questo qui secondo me poteva essere un bello oggettino ma non l'ho comprato diciamo a caso l'ho preso semplicemente per poter usufruire della spedizione gratuita ho preso questo filamento della color fab costa un patrimonio perché è l lv pla che non sarebbe altro che un filamento per l'appunto di tipo pla che sostanzialmente dovrebbe permettermi di stampare del diciamo degli oggetti però con un peso molto inferiore perché sfrutta tutto un sistema di diciamo di espansione post estrusione un po come se fosse tipo schiuma poliuretanica quindi aumenta il proprio volume diciamo in relazione alla temperatura e altri parametri comunque lo andremo a rivedere meglio in un altro video che sono sicuro che vi può interessare pacchetto invece da amazon che invece questo è inerente all'unboxing grosso della stampante grossa più grossa e qui abbiamo un'altra scatola diciamo il materiale che poi andrà a riempire la stampante che andremo a vedere infatti come potete vedere non ho preso il mio solito mezzo chilo di resina bensì a sto giro ho preso il chilo di resina bianca della any cubic voi mi chiederete per comprensione cubic e non elego sostanzialmente perché c'era quella perché era in una buona offerta infatti l'ho linkata sul canale telegram delle offerte ve lo lascio come sempre qui sotto in descrizione così almeno potete rimanere sempre aggiornati anche sulle varie offerte oddio quanto pesa è veramente gigantesca sicuramente l'avrete letto dal titolo ma qui abbiamo la elego saturn una stampante che secondo me è veramente molto interessante perché comunque vi offre la possibilità di stampare in resina quindi dettagli super però con un volume di stampa decisamente più grande rispetto al diciamo alla concorrenza e anche soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo sono veramente curioso e soprattutto l'ho presa per un motivo perché mi serve per stampare delle cose ben specifiche vi ricordo lo sponsor di questo video che sono io nessuno me l'ha presa come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale spuntando la campanella per supportare questi progetti la produzione continua di video e quant'altro anche perché è uno dei migliori modi di supportare il canale e quindi vi ringrazio in anticipo in compenso qui sta piovendo veramente a dirotto andiamo ad aprire il sigillo allora qui abbiamo un po' di materiale di protezione che andremo subito a togliere e come potete vedere tutta bella pellicolata incelofanata è abbastanza ben protetta non mi sembra che ci siano particolari criticità a riguardo come avevo letto un po' in giro e però vabbè vediamo magari dietro c'è una crepa di 10 centimetri comunque qui abbiamo una scatolina una bella scatolona con dentro una spatola di metallo varie brugole e anche una gigantesca vite a brugola una spatola di plastica poi abbiamo un alimentatore da ben 96 watt un po' di filtri in carta cavo IEC le nostre ormai classiche tronchesine ormai c'ho casa in vasa manualetto pennetta usb guanti un leveling paper questo qui magari va conservato e poi delle mascherine grigio edition sembra che potrebbero avere tipo dei carboni attivi dentro sembrano potrebbe potrebbero essere decenti stavolta e poi ultimo ma non per ordine di importanza come al solito abbiamo la nostra gigantesca lego saturn andiamo a toglierlo dalla busta mettiamo un attimino da parte poi abbiamo l'altra busta della busta dietro è tutta unta qui invece c'è ah ok toglie così tutto in blocco è andato da solo poi qui abbiamo comunque con la sua protezione in plastica qui davanti il piatto gigantesco rispetto alla mia faccia è veramente enorme e pesante qui abbiamo altre protezioni e comunque possiamo subito vedere che la vaschetta è in metallo è veramente gigantesca e poi abbiamo qui subito i due pomellini praticamente per togliere la vaschetta dalla sua sede mi raccomando prima di stampare ricordatevi di togliere le pellicole del FEP perché magari ve le dimenticate perché questa qui si vede e su alcune stampanti la mettono anche diciamo qui dentro e succede sostanzialmente un macello ha dei piedini tra virgolette diciamo queste viti a brugola che ci permettono di appoggiarlo su un piano il FEP non va a toccare la superficie che potrebbe avere polvere o quant'altro e quindi potrebbe rischiare di graffiarlo e comunque come vi dicevo qui c'è la tacca del massimo e va rispettata perché sennò rischiate di far strabordare tutto però comunque questa diciamo questa vaschetta sembra veramente ben fatta ah ok il pezzettino qui nero intorno è un polarizzatore qui dietro come potete vedere abbiamo due ventole posizionate per l'appunto qui dietro abbiamo il tasto di accensione spegnimento sfortunatamente posto nella parte posteriore insieme qui di fianco abbiamo il plug per l'alimentazione qui come potete vedere abbiamo anche una presa Ethernet quindi come bene si intuisce questa macchina è provvista di connessione diciamo di rete sul lato destro della macchina invece troviamo soltanto la porta USB messa qui in basso qui sulla sinistra è perfettamente pulito e qui davanti abbiamo questo piccolo display touchscreen ovviamente comparato con questo coso qui gigante questo qui sembra veramente non lo so tipo un orologio come potete vedere questo carrello è fatto tutto interamente in metallo e ha due grosse guide lineari a carrello che rendono veramente il tutto super super stabile ovviamente la movimentazione lineare poi è supportata da una vite trapezia probabilmente mi sembra una T8 classica come potete vedere qui abbiamo anche gli incavi come vi dicevo per l'inserimento e diciamo insomma quelle viti che ci permettono di non rovinare il piano diciamo sottostante del FEP quindi si vanno ad incastrare qui ci aiutano anche per il centraggio quindi veramente cosa buona qui come vi dicevo c'è l'enorme display 4K quindi comunque la risoluzione è buona veramente gigantesco apprezzo veramente un sacco che qui abbia tutta questa cioè tutte queste parti sono fatte tutte 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 in metallo anche queste anche queste placche qua sono prese e tutto 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 metallo veramente una cosa ottima cioè perché proprio la stabilità di questa macchina cioè la stabilità di questo tipo di stampanti è veramente essenziale e se non c'è concettualmente vi ritroverete con delle stampe terrificanti insomma ho parlato molto bene di questa macchina perché veramente sembra fenomenale diciamo che vogliamo trovargli un peletto nell'uovo non è provvista diciamo di filtri integrati per comunque il ricircolo e il filtraggio dell'aria in ogni caso è veramente mastodontico questo piano come potete vedere queste brugole sono gigantesche ed è una cosa veramente buona perché chiaramente comunque c'è sempre il discorso dell'autoregolazione diciamo della pressione del piano però in ogni caso queste cose qui devono cioè comunque queste viti qua devono essere super super stabili perché se no chiaramente ogni volta che va a tirare su la stampa in resina il rischio che essa si stacchi dal piatto o peggio che prende si storga e quant'altro anche perché diciamo rischiate di fare dei danni addirittura al display diciamo che è meglio che sia fatto così molto bella anche qui la mega copertura rossa fatta così mi piace veramente un sacco comunque oggi non la posso andare a provare però non potevo aspettare a a spacchettarla quindi in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto qui sotto nei commenti ovviamente sempre qui in descrizione vi lascio tutti i link per l'acquisto per varie cose e quant'altro prima della recensione chiaramente dovrei e penso di pubblicare un po' di foto direttamente sul mio profilo Instagram e comunque lì escono un pochino tutti gli spoiler e quant'altro insomma ragazzi il video di oggi finisce qui spero tanto che vi sia piaciuto mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace iscrivetevi, commentate mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video